Rinvio al primo luglio del processo a Guido Bertolaso e polemiche da parte dei familiari delle vittime anche oggi presenti in aula per il rischio prescrizione. Lui invece, Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile, non c'era neanche oggi per l'udienza del processo che lo vede imputato per omicidio colposo plurimo in relazione alla convocazione della Commissione Grandi Rischi del 31 marzo del 2009. Bertolaso, secondo l'accusa, sarebbe colui che avrebbe ispirato i contenuti rassicuranti della conferenza stampa successiva alla riunione della Commissione, secondo l'accusa. Tra i testimoni ascoltati oggi in udienza, Giuseppe Zamberletti, ex ministro, ritenuto il padre fondatore della moderna protezione civile, ex capo della protezione civile nazionale, che ha risposto alle domande degli avvocati, chiarendo anche che una conferenza stampa per lui non tranquillizza mai, ma riporta semplicemente i contenuti di ciò che è accaduto. L'ex ministro ha anche ricordato il caso della Garfagnana, dove fu diramato l'allarme. Ancora oggi difende quella scelta, dicendo che c'erano elementi precisi per farlo. Sono andato a rispondere in aula su questi temi, sarebbe scorretto nei confronti del tribunale a rispondere. Ho terminato adesso la mia deposizione, la mia deposizione e i depositori di tutti. Si è parlato ancora una volta in aula oggi della teoria, secondo la quale uno sciame sismico prolungato scaricherebbe l'energia impedendo una scossa più forte. Per Zamberletti questa teoria non è più sostenibile. Lo era nel 2009, allora gli hanno chiesto i cronisti? È uguale, è uguale. L'ho sempre sostenuta perché in Friuli ho provato il contrario. Dopo di lui è stata la volta di Titti Postiglione, responsabile della Sala Operativa Nazionale della Protezione Civile. La testa si è soffermata sul contenuto di un comunicato stampa rilasciato dalla Protezione Civile regionale e poi ha parlato anche delle previsioni del tecnico del Radon Giampaolo Giuliani. La Postiglione ha anche spiegato che lo scarico di energia inteso in senso positivo è la tesi usata anche per altri terremoti, ma che non può essere usato come fattore esclusivo. Nessuno ha detto, ha mai sostenuto che l'esistenza della sequenza non implicasse la possibilità di un evento principale più forte. Non c'erano segnali che potevano far presagire una grande scossa, ma non si poteva neanche escludere una grande scossa. Da geologa non condividi, ha detto, la teoria dello scarico di energia, ma in Dipartimento la tesi era stata già sostenuta dai tecnici. La nostra, ha chiarito ancora, non è una struttura tecnico-scientifica per cui noi discutevamo di ciò che proveniva da altri ambienti scientifici, per cui le NGV in prima battuta. Ci siamo posti il problema se lo sciame fosse da interpretare positivamente oppure no, per cui abbiamo richiesto la convocazione della Commissione di Esperti Scientifici.